Kasia, grazie per aver accettato l'invito di partecipare a questa conferenza sul Tibet a nome di tutta l'Unione Buddista Italiana. Oggi tu presenterai il progetto che come Fondazione Tarricone sostenete in Nepal. Allora, quello che vorrei chiederti è come è nato l'interesse su quell'area del mondo e per i bambini di tradizione tibetana? Per puro caso, devo dire, o per destino come credono gli altri. Eppure forse anche io un pochino. Da un semplice viaggio e da una curiosità di scoprire una cultura che non conoscevo per niente. E così un viaggio che ho fatto ormai vent'anni fa insieme con Pietro. Pietro, siamo stati nella regione del Mustang, o meglio, ci siamo persi nella regione del Mustang. E tornando stavamo pensando di fare qualcosa, dico qualcosa perché è proprio lì che è rimasta una parola sospesa. Qualcosa per quel popolo, per quelle persone, per quella cultura che abbiamo conosciuto lì. Sei anni dopo sono tornata lì con mia figlia, nella ricerca di quel qualcosa da fare. E ecco, con quella voglia, con quella forza e necessità di aver fatto una promessa non scritta. Ed ecco, come la vita mi ha smentito e come solo quei posti possono smentirti e ribaltare tutto e darti una soluzione così semplice che è quasi disturbante. Ecco, sono arrivata là per fare qualcosa e non ho trovato quel qualcosa. Allora ho pensato di, ecco, forse per la prima volta nella mia vita di prendere un lungo sospiro e di fare quello che spesso non viene fatto quando si decide di dedicare del proprio tempo per aiutare gli altri. O meglio, di capire se effettivamente gli altri hanno bisogno del tuo aiuto o se il bisogno è semplicemente tuo. E così, in due anni di viaggi, di viaggi silenziosi, di viaggi più impegnati, sono giunta a un pensiero unico, che quel qualcosa effettivamente era un inizio. Però la base era quella della mia affascinazione totale della cultura e forse anche la cultura comprende anche quella spiritualità, quel modo di vivere la vita e quel punto di vista sul mondo, sul pianeta sul quale viviamo. E così, ho pensato che in un posto dove, dal punto di vista nostro, occidentale, manca tutto, cioè non ci sono i presidi medici, non ci sono le scuole adeguate, non ci sono... Non c'è un futuro che potrebbe dare la possibilità alle persone, alla popolazione del Mustang di confrontarsi alla pari con il mondo che conosciamo noi. Io l'ho trovato importante perché ho pensato che solo quel confronto potrebbe dargli degli strumenti adeguati per mantenere la propria identità. E così ho pensato di costruire una scuola, quindi cominciare dall'educazione per aiutare, per dare strumenti, per salvaguardare questa cultura. Senti, questa esperienza che, da quello che racconti, è sicuramente un'esperienza trasformativa, che credo che abbia trasformato anche te in parte. E allora mi verrebbe da chiederti qual è l'eredità più intima che ti ha portato questo tipo di esperienza, cioè qual è il regalo più grande che ti ha dato e quale potrebbe essere il consiglio, tra virgolette, l'indicazione che ti senti di dare a chi vorrebbe iniziare un percorso simile. Noi sosteniamo tanti progetti in quelle aree del mondo di educatori, operatori che vogliono lavorare per migliorare la vita di queste popolazioni. Molto spesso è facile, altre volte no. Però nelle tue parole sento forte questa energia, no? Questo modo, questa volontà di trasformare la vita di queste persone. Quindi se dovessi dare un'indicazione, un consiglio, partendo dalla tua esperienza? Ecco, forse la parola trasformare la vita degli altri è sbagliata, che è la base su quale sono partita pure io. Noi abbiamo questa idea che quello che conosciamo è meglio, che la povertà si rispecchia in quello che uno ha addosso di com'è la tua casa. Io ho messo anni, anche io stessa ho messo anni per arrivare a capire soprattutto di essere umili proprio in questo pensiero. quello che mi ha dato di più, perché è grazie di chiedermi, non quello che ho dato io, ma di quello che mi ha dato di più questo percorso, questa avventura, no? Non dico un progetto, questo è stato un percorso che ha cambiato me e ha cambiato, ha già cambiato i miei figli anche, che sono cresciuti insieme con questo progetto. è quello di, da madre, ecco, di aver dato la possibilità ai miei figli di conoscere questa cultura e questo modo di vivere, che è una possibilità. Tu hai più possibilità, questa è una di queste. Poi possono scegliere sì o no, faranno quello che vorranno nella vita, però questo è stato un seme che è stato già messo nel loro cuore, nella loro testa in qualche modo. Per me tutte le considerazioni che mi faccio, giuste, sbagliate, le motivazioni, si concludono in un niente quando torno lì e vedo i sorrisi dei bambini che sono nella scuola, che stanno imparando, che stanno facendo un percorso. Posso farti un'ultima domanda? Si parla tanto, anche nelle grandi città come Milano, Roma, ma ovunque in Italia, di multiculturalità. Ci sono scuole dove ormai la maggioranza dei bambini sono di origine straniera. Allora, tu che hai vissuto in prima persona l'incontro con un'altra cultura, tu credi che i bambini, sembra una domanda semplice, ma in realtà non richiede una risposta banale, tu credi che i bambini abbiano una capacità di incontro, di relazione, anche di stupore, più forte probabilmente di quella che abbiamo noi oggi, come adulti intendo dire? Essendo madre di due figli, un maschio e una femmina, avendo vissuto nelle realtà diverse durante il percorso della mia vita, perché io sono polacca, quindi sono nata in Polonia, vivo qua in Italia da ormai vent'anni, vivo anche in Nepal ormai da parecchi anni. Quello che ho visto è che, insomma, sono convinta che i bambini hanno un modo di pensiero assolutamente libero, siamo assolutamente noi la società che dà le spiegazioni, che ha bisogno di confluire le loro idee di una o in altra parte. I bambini sono esseri liberi, per quello si esprimono in una maniera senza i filtri, senza condizioni alcune. Penso a mia figlia che quando siamo andati, quando lei è andata la prima volta in Mustang, aveva cinque anni e mezzo, e una bambina cresciuta tra Roma e la Polonia è arrivata in Mustang e si è scontrata con una realtà completamente diversa. e lo stupore, la curiosità, l'istinto puro, ma le sembrava, e anche se non parlava la stessa lingua degli altri bambini, a lei sembrava assolutamente naturale e normale. Vedendo poi, osservandola, ho pensato che l'unica cosa che potrei fare per questa bambina e dà gli strumenti per potersi confrontare con più persone diverse, per poter in qualche modo aprire le sue capacità di comprensione senza neanche dover dare tante spiegazioni, che non servono. I bambini è una cosa... Poi noi tutta la vita che cerchiamo di ritornare a quel nostro essere probabilmente bambino più istintivo e più cercando sempre di più o ricercando disperatamente quel centro, metterci al centro delle cose. I bambini sono al centro delle cose, sono convinti di essere al centro delle cose da quando sono nati. Quindi anche, ecco, confrontarmi con dei bambini lì, che già nascono e vivono immersi in una mentalità dove l'essere umano, o tutti gli altri esseri, anche quelli non umani, sono al centro, e che è giusto essere al centro. Mentre il mondo che conosciamo noi in una maniera distopica ci presenta a quello essere al centro. Di fatto ci presenta varie... ci costringe a non esserlo, ci riporta da questo centro. Ci riporta al discorso di far parte di una società, di una comunità, di essere un piccolo numero e fa di tutto per farci scordare questa nostra unicità e questo nostro centro. Perfetto. Senti, grazie mille. Grazie mille. Grazie davvero, di cuore. Grazie. Davvero, grazie mille. Grazie mille.